Nonostante qualche difficoltà, gli Amaranto portano a casa la vittoria per 72-75. Un buon avvio che costringe a Terracina a chiedere un time-out dopo soli 4 minuti di gioco. Alla rientra in campo il Ferentino sbaglia e Terracina accorcia le distanze. A fine primo quarto il punteggio è di 13-15. Durante il secondo quarto i gegliati sono nuovamente in difficoltà. Due trible di serra permettono alla squadra di tirare un respiro di sollievo, ma al suono della sierana le due squadre si trovano in perfetta parità. Al ritorno dagli spogliatoi, gli Amaranto sono in evidente affanno. Alcuni errori in difesa permettano a Terracina di raggiungere le 10 lunghezze di vantaggio. Durante l'ultimo periodo il Ferentino sembra aver trovato la giusta concentrazione. I gegliati tornano di nuovo in testa e gli ultimi minuti di gioco sono decisivi. Il Ferentino riesce dunque a battere Terracina 72-75.